Dopo aver rilassato gli emisferi del diaframma, possiamo posizionare il nostro paziente sia sul lato sinistro che sul lato destro, secondo la zona dove abbiamo individuato dei problemi con i muscoli intercostali. Girati per favore sul lato sinistro. Possiamo aggiungere dello stiramento. Il lettino mito ci permette di aggiungere dello stiramento nella zona intercostale in maniera molto semplice, in questo modo. Vieni giù ancora un pochino e possiamo assicurarci che la pelvi scende quando il paziente si adagia. Ecco così. Adesso il paziente può alzare il braccio, così, e possiamo vedere che i muscoli intercostali sono allungati. Possiamo aggiungere del calore per aumentare l'elasticità dei tessuti tra le costole e possiamo iniziare a lavorare in questa zona. Ancora una volta usiamo il modo resistivo per fare un lavoro delicato e profondo e per lavorare sulle strutture miofasciali. di entrambi partecipato e per arrivare il cittadino. So, questo è il caso di richiedere l'elasticità di riscogliate di riscogliate di riscogliate di riscogliate di riscogliate. Per error sottotitoli, vi inviere. Grazie.